Un finanziamento prima concesso in base a quanto previsto dal contratto d'aria e poi revocato dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha chiesto la restituzione di una somma superiore agli 800.000 euro. L'investimento dell'imprenditore locale è finito al centro delle verifiche, però non era affatto una scatola vuota. Non sono stati gonfiati i costi per ottenere maggiori fondi. I giudici del Tribunale Amministrativo di Palermo hanno accolto il ricorso del suo legale e annullato i provvedimenti del Ministero. Nessuna revoca del finanziamento da circa mezzo milione di euro per la costruzione di uno stabilimento destinato alla lavorazione di frutta e ortaggi già realizzato nell'obbligo di restituire gli oltre 800.000 euro. Le prime verifiche iniziarono dopo alcuni accertamenti condotti dai militari della Guardia di Finanza sulle fatture rilasciate dall'azienda che si occupò dei lavori di costruzione dello stabilimento poi collaudato. Per le fiamme gialle sarebbero stati gonfiati i costi. Venne emesso un avviso di accertamento da 267.000 euro nei confronti dell'imprenditore. Contestazione però caduta sia davanti alle commissioni tributarie senza sede penale con l'archiviazione dell'inchiesta per prescrizione decisa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale. Nonostante l'esito dei procedimenti funzionali ministeriali hanno proseguito l'iter per la revoca del finanziamento. Atti che sono stati impugnati al TAR e i giudici amministrativi hanno accolto in pieno il ricorso.